Ritorno immediato alle urne, c'è solo quest'altra ipotesi? Nel caso dei risultati... Credo che si dovrebbe riformare la legge elettorale, perché altrimenti si rischia di fare altri giri a vuoto. Si dovrebbe riformare la legge elettorale e le leggi elettorali si fanno insieme. E quindi andando avanti col governo tecnico? No, questo non mi sembra davvero prematuro, io credo abbiamo già dato con i governi tecnici. E quindi qualcuno dovrà governare? Sì, vedremo, ma per quanto mi riguarda non ritengo che soluzioni tecniche siano adeguate. Si può fare un governo politico a termine per rifare la legge elettorale e andare a votare. Aspettiamo a vedere come evolvono poi davvero i risultati. Grazie a Stefano Fassina, grazie anche per essere venuti.